L'ultimo sindaco del 2014, ospite in Radio Oggi, il primo cittadino di Loano, il sindaco Luigi Pignocca. Tanti naturalmente gli argomenti trattati, però sei l'ultimo sindaco, ormai siamo a poche ore dal capodanno, quindi non so se vuoi magari lanciare anche attraverso il sito di stavolonews.it, saluti e gli auguri di buon anno. Beh, devo dire che mi fa molto piacere essere l'ultimo sindaco di quest'anno a poter partecipare qua negli studi di Radio Ondaligo, perché mi fa molto piacere essere sempre qua insieme a voi. Beh, chiudiamo l'anno in bellezza, Loano chiude con un grande concerto in piazza, con i DJ di Radio DJ, DJ Cugli, che sembra uno scioglilingua, DJ Michlini, dalle 22.30 in piazza Italia, per poi ascoltarci il grande concerto del rapper Ensi, a partire dalla mezzanotte e mezza. Avremo modo così di poter augurare una buona fine e un migliore inizio, come si dice sempre, a tutti i nostri turisti e ai nostri concittadini.